no va be te dico fermate bella partita ragazzi no va be te dico fermate ma che grazie di partita è stata oggi no ma io veramente sono arrivato al libito passito beperessino 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 despassito no scherzo come posso dire non so bella partita molto bella e allora empoli ha giocato bene devo dire che ha giocato bene perché quando è in casa gioca sempre bene ma il farfa allora il palma lo sappiamo va bene ha perso contro il napoli ha perso contro con chi era altra volta va bene non ricordo comunque scusate sono fatti video di cagliari inter ma in realtà l'ho fatto ma non arriva arrivano le fitte nella camera incredibile comunque empoli parma partita molto bella empoli che ho fatto bene anche l'unica cosa che non so la classifica porca ce n'è lo sapevo che non lo sapeva la classifica va beh comunque e niente io un sauro ci vediamo dopo con aspettate che non mi ricordo so che gioca in milan a milan sassuolo ma forse è sassuolo milan o milan sassuolo forse milan sassuolo se non ricordo male forse milan sassuolo in casa del oggi non riesco più a parlare in casa del milan se non ricordo male adesso guardo poi poi vabbè comunque ora dopo con milan sassuolo sassuolo milan e niente io saluto scusate se non so milan sassuolo sassuolo milan però vabbè sono ritornato ok io vi saluto ci vediamo dopo la partita milan sassuolo mi sembra poi non so milan sassuolo ci vediamo dopo ciao